Ciao a tutti! Oggi parlerò degli antivirus per Mac. Molti utenti credono che i Mac siano immuni dai virus. Tuttavia, l'ultimo resoconto di Malwarebytes dimostra il contrario. Hanno registrato un aumento significativo nella prevalenza complessiva delle minacce Mac durante lo scorso anno, con un aumento di oltre il 400% rispetto all'anno precedente. Pensi ancora che il tuo Mac non abbia bisogno di un antivirus? Se sei preoccupato come noi per la sicurezza dei dati, questo video ti aiuterà a scegliere il miglior antivirus per Mac per sconfiggere virus e malware. Ma aspetta, qual è la differenza fra i due? Questi termini sono spesso usati in modo intercambiabile. Ma non sono la stessa cosa. Malware è un termine generico che copre praticamente qualsiasi software dannoso, compresi i virus. Un virus è un tipo più specifico di malware, che si replica automaticamente inserendo codice dannoso in vari programmi. Quindi, se un antivirus dice che ti protegge dal malware, questo include virus, worm, app potenzialmente indesiderate e altri programmi dannosi. Adesso diamo un'occhiata ai migliori software antivirus sul mercato. Numero uno. CleanMyMac X. CleanMyMac X è al primo posto nella nostra classifica per un paio di motivi. Il suo database di malware contiene informazioni su ogni attacco di malware conosciuto e inoltre viene aggiornato regolarmente con dettagli su nuovi virus e worm apparsi di recente. Perciò questo software è in grado di rilevare anche i tipi di malware più rari. CleanMyMac X esegue la scansione del tuo Mac per rilevare ogni genere di malware. Con la sua protezione in tempo reale, nessun malware si intrufolerà nel tuo Mac OS. CleanMyMac X verifica il tuo Mac in background e reagisce istantaneamente a qualsiasi malware che tenta di invadere il sistema. Tutto quel che devi fare è abilitare la protezione in tempo reale e CleanMyMac X ti avviserà di ogni possibile minaccia malware. Oltre a questa funzione, l'applicazione possiede una vasta gamma di opzioni per liberare il tuo sistema da file non necessari e mantenere le prestazioni del Mac sempre al top. Individua e rimuove i file della cache dell'utente, i file di registro di sistema e altri indesiderati per mantenere il tuo MacBook pulito e veloce. Segui il link nella descrizione per ottenere CleanMyMac X e ti ritroverai un Mac più sicuro e veloce. Numero 2 Antivirus Bitdefender La protezione multistrato da ransomware e la rimozione di hardware sono le caratteristiche distintive di Bitdefender. Bitdefender è dotato di un'ottima modalità autopilot, che mostra consigli utili nel dashboard e mette in risalto funzionalità di sicurezza che forse prima non usavi. Il suo sistema Do Not Track blocca i tracker degli annunci sulle pagine web, per impedire loro di raccogliere i tuoi dati. Oltre alle tradizionali scansioni di malware, Bitdefender controlla anche i file di backup di Time Machine per rilevare eventuali minacce. Avrai quindi la certezza che un attacco ransomware non comprometterà i tuoi backup. Numero 3 Intego Intego è un nome familiare nella protezione del Mac e si occupa di mantenere il tuo computer privo di malware in maniera semplice. Intego è più che altro una suite di sicurezza complessa, quindi quando installi Intego sul tuo Mac otterrai un firewall a due vie. Net Barrier, uno strumento di pulizia. Washing Machine, il backup dei file. Personal Backup e un filtro dei contenuti. Content Barrier, che è essenzialmente un filtro famiglia. Virus Barrier è il componente del software responsabile della protezione dai virus. Puoi tenere tutti i componenti di Intego sul tuo Mac, o semplicemente rimuovere quelli che non usi e limitarti ai prodotti di cui hai veramente bisogno. Con Intego puoi programmare le scansioni, che è un'ottima opportunità per chi si dimentica di controllare la presenza di virus di tanto in tanto. Il componente Virus Barrier ha un'apposita scheda quarantena, che mantiene tutti i file infetti isolati da altri elementi sul Mac. Purtroppo, tutto quest'ottimo lavoro viene in parte annullato dall'elevato consumo di risorse di sistema. Numero 4. Norton Antivirus Plus Norton è ben noto per avere prestazioni eccezionali, ed è esattamente quel che otterrai. Il suo motore di rilevamento malware non è secondo a nessuno, e puoi utilizzarlo su più dispositivi Mac, iOS, Windows o Android. Norton offre numerosi prodotti e servizi, e tutti sono mirati alla sicurezza online. Norton Antivirus Plus è la soluzione meno costosa di tutte, ma le sue funzionalità proteggeranno il tuo Mac da spyware, ransomware e ogni genere di malware. Norton Antivirus Plus include anche un gestore di password, che aggiunge un livello di privacy ai tuoi dati. Se Antivirus Plus è un'opzione limitata per te, Norton 360 estende il marchio, coprendo le funzionalità e supportando i dispositivi Android e iOS, nonché Windows e Mac. Con Intego, Norton comprende un firewall per avvisarti quando ti connetti a una rete non protetta e blocca il traffico non autorizzato. Numero 5. Trend Micro Trend Micro è lo strumento più gentile per il tuo sistema. Quasi non ti accorgi della sua presenza. Ma fa il suo lavoro senza distrarti. È dotato di utili funzionalità come il filtro dei contenuti e il controllo della privacy dei social media, mentre una scansione completa non impiega mai più di dieci minuti. Folder Shield, un'altra grande funzionalità di Trend Micro, impedisce a processi non attendibili di accedere ai file archiviati nelle cartelle protette. Trend Micro pianifica una scansione rapida mensile, che aiuta a controllare regolarmente la presenza di minacce sulla macchina. Trend Micro è molto efficace nel controllare la presenza di truffe nelle mail che ricevi e nel metterti in guardia contro siti web sospetti e pericolosi. L'interfaccia molto minimalista di Trend Micro potrà magari sembrare un po' troppo semplice per alcuni utenti, ma altri la troveranno piacevolmente discreta. Numero 6. Sophos Home Sophos ti consente di proteggere fino a 10 dispositivi macOS a un prezzo relativamente basso, 50 euro. Esiste una versione gratuita, ma francamente offre una protezione minima. Pertanto, se hai bisogno di una protezione ransomware avanzata, scegli la versione Premium. Inoltre, l'opzione Premium controlla l'accesso alla webcam e al microfono, per assicurarsi che nessuna app possa utilizzarli di nascosto. Sophos è una buona soluzione per i genitori, in quanto offre una funzione di filtro famiglia che proteggerà i figli da contenuti indesiderati. Puoi impostarlo in modo che visualizzi un avviso o per impedire ai bambini l'accesso a categorie specifiche di siti web. Il problema è che Sophos per Mac a volte può lasciarsi sfuggire alcuni siti pericolosi. La versione Windows, tuttavia, vanta sofisticati filtri per il controllo parentale. Numero 7. AVG L'antivirus AVG offre sia una protezione di base che completa. E la buona notizia è che la soluzione di base è gratuita, così puoi provarla senza rischi. Se fai clic sui tre punti accanto al pulsante Scan Mac, AVG offrirà tre opzioni di scansione. Mac Scan, Deep Scan e File Scan. La prima controlla i punti più vulnerabili sul tuo Mac, che sono probabilmente file di sistema. Deep Scan, scansione profonda, non è nulla di nuovo e, come avrai immaginato, il suo scopo è scansionare quasi tutti i file e le cartelle sul tuo Mac. File Scan è un'opzione utile. Ti consente di specificare il file esatto da scansionare, cosa che richiederà solo un paio di secondi. Per quanto riguarda la versione gratuita, AVG esegue un lavoro incredibilmente buono. A volte le scansioni del Mac possono essere un po' troppo lunghe, ma se non è un problema per te, non dimenticarti di provare questo antivirus. Come vedi, ci sono molti antivirus di buona qualità per il tuo Mac. Apple è un ambiente decisamente sicuro. Tuttavia, non è completamente protetto da virus. Spyware, ransomware e cavalli di troia che possono nascondersi anche negli allegati di posta elettronica. Tenere d'occhio la tua sicurezza digitale è essenziale ed è impossibile farlo in modo efficace senza un potente antivirus. Spero che tu abbia trovato l'antivirus adatto alle tue esigenze. Troverai tutti i link e ulteriori informazioni nella descrizione qui sotto. Grazie per la visione!